Tutto rimandato nel primo match point Serie D per il Chieti fermato dall'Avezzano sull'1-1 in uno stadio Angelini di nuovo aperto al pubblico sold out la tribuna centrale ma festa rinviata il Chieti che parte bene sono Spadafora e Fabrizi gli uomini più avanzati scelti da Lucarelli torna in panchina Corticchia che entrerà nella ripresa ma l'Avezzano pericoloso soprattutto con Spinola non sarà un avversario morbido tutt'altro titolare Braghini dopo il gol stupendo da subentrato con l'Aquila la brutta tegola per i neroverdi in apertura costretto a lasciare il campo liberato Filosa in barella al suo posto spazio per Riccardo Lucarino che va ad assumere la posizione di centrodestra mentre Aquilanti si accentra gli applausi per Filosa da parte del pubblico ma il Chieti vuole il vantaggio lo chiede a gran voce la tribuna si intendono a meraviglia Fabrizi e Spadafora Reclama qui la squadra neroverde ma è irremovibile spedale della sezione di Palermo per cui si può proseguire Eccolo Lionel Spinola mettere scompiglio nella difesa teatina una spina nel fianco l'argentino quindi l'occasione per l'1-0 potenziale con Farindolini quindi Spadafora che colpisce Jacopo Puglielli in pieno volto Ma secondo i calciatori del Chieti ci sarebbe stato in precedenza un tocco quasi impercettibile di mano del difensore a un passo dal vantaggio Il Chieti sul fronte opposto la sponda per Besana sul fondo Morgan Besana il migliore dei suoi soprattutto nel corso della prima frazione Quindi eccolo il gol che regala l'1-0 al Chieti ottimo il lavoro di Spadafora difesa impreparata nel frangente poi un tocco dentro a pescare Luca Fabrizi che anticipa tutti compreso Francesco Laguzzi può tornare ad esultare lo stadio Angelini L'urlo liberatorio dei 700 presenti in tribuna per Luca Fabrizi un gol che potrebbe risultare pesantissimo nell'economia della promozione Tutti ad abbracciarlo Chieti 1 Avezzano 0 ad una manciata di secondi dall'intervallo Ripresa che si apre così come era finito il primo tempo sia con il solito Luca Fabrizi qui ammonito per simulazione Sull'uscita di Michael Di Girolamo scatenato Fabrizi in anticipo su Di Gianfelice il colpo di testa che si perde fuori Poi esce l'ex Castelnuovo al suo posto Guido Galli il cambio di Alessandro Lucarelli La combinazione che coinvolge Spadafora e Mariani con la gara che galleggia ancora sull'1-0 dentro Alessandro Pendenza Nell'Avezzano un cambio che risulterà decisivo Quindi Spinola che costringe all'intervento in corner Matteo Fortil Chieti che resta sull'1-0 ancora per poco però Perché Pendenza con un mancino ad incrociare Gela Langelini questa volta Nulla da fare per Matteo Fortil pareggio dell'Avezzano e terza marcatura per Alessandro Pendenza nel mini torneo Prova subito a reagire il Chieti che deve segnare un altro gol per risultare davanti al proprio pubblico Entra anche Anas Icramelà e incide subito sul match con questo spunto sulla destra Adesso Chieti a trazione decisamente anteriore ma rischia addirittura di passare in svantaggio nel recupero Con l'entrata di Corticchia ai danni di Enkel Ica ci sono gli estremi per il tiro dagli 11 metri Secondo spedale di Palermo dal dischetto Pendenza avrebbe la possibilità di siglare la doppietta personale Ma colpisce il palo si salva il Chieti che però non può festeggiare come pregustava Alla vigilia davanti al proprio pubblico mercoledì Il secondo match point a Capistrello Un po' di nervosismo negli istanti finali allo stadio Angelini Lo sgambetto di Antonio Torti Chieti 1 Avezzano 1